Signor Bagalli, lei che è il più grande presentatore in Italia, il presentatore, che poi tra l'altro non è solo il presentatore, ma un presentatore può, deve, non deve commentare l'attualità politica oppure no, secondo lei? Un presentatore ha il diritto di avere opinioni come chiunque altro al mondo, deve avere anche la delicatezza di esprimere nei luoghi, nei momenti giusti. Nella conferenza stampa del festa di Sanremo. Forse non è il momento giusto per una dichiarazione politica, io non lo farei, però è legittimo, giusto e doveroso avere delle opinioni. Signor Bagalli, ma perché non ha mai condotto Sanremo lei? Ma per fortuna, ma io vado in pellegrinaggio ogni anno per ringraziare, ma perché no? Intanto non me l'hanno fatto fare. Certo, sì, ma perché non gli hanno mai chiesto? No, no, me l'hanno chiesto, lo chiese un anno, lo chiesero, chi era? Il comune di Sanremo, lo chiese alla RAI e la RAI disse va bene Magalli. Che anno era? Non me lo ricordo, era qualche anno fa. Furono i discografici che si opposero, che allora i discografici erano ancora esistenti, e dissero no, perché Magalli fa l'ironia, noi spendiamo milioni per creare il look di un cantante, poi arriva lui con due battute e lo distrugge. E questo è confermato dal fatto che se ti leggi la storia di Sanremo, Buongiorno l'ha presentata 13 volte, Baudo l'ha presentata 13 volte, Corrado l'ha presentata una volta, Raimondo Vianello una volta. Perché secondo te... Che l'ironia a Sanremo non è voluta, il comico sì, se fa il suo numeretto va bene, ma il conduttore... Deve essere serio, ed è giusto così? Ufficiale, ha funzionato, però insomma... E le dispiace? Ma mica tanto, perché poi Sanremo è come la prima notte di nozze, se lo fai male ce lo ricordano tutta la vita, se lo fai bene alla fine non frega niente. Da nessuno dice. No, vabbè, è normale, se lo fai bene è normale, se lo fai male ce lo ricordano. Però è neanche un programma più importante, un programma... cioè non le manca, non si sente un po'. Tu hai fatto delle prime serate? Sì, ma io ho fatto tutto, tutti, sabati, domenici, domeniche in, due fantastico, due domeniche in, cervelloni, giovedì... Alla fine è un po' sottovalutato... No, no, è contento... No, no, mi piacerebbe, non è questione di sottovalutazione, mi piacerebbe fare un quiz, per esempio, ma perché mi diverte, mica perché è più importante di quello che faccio. Eh, non ci stanno più i quiz. No, c'è l'eredità adesso. Eh, ti, una cosa... E che l'ha detto? I soliti ignoti? Ti piacerebbe fare più l'eredità e i soliti... Reazione a catena. Reazione a catena. Perché reazione a catena? Perché è divertente, perché si può scherzare, giocare con i concorrenti. E non l'ha chiesto, gli hanno detto di no. Sì, no, lo chiedo sempre, ma non mi filano. E le dicono sempre di no. Eh, fai i fatti tuoi, i fatti vostri. No, i fatti tuoi, no, i fatti tuoi. Fatti, 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 fatti. Sì, no, i fatti tuoi.